Voglio chiamare in causa appunto a cappa informatica per il semplice fatto che è molto conosciuta fra di noi Qualche giorno fa gli sono arrivati nuovi processori Intel Quindi credo che sia il momento più opportuno per chiedergli una mano Ma soprattutto Ok No, non adesso Ok Direi che si può fare, va bene Cacciavite a croce Ho detto a croce Pronto? Ragazzi, questo è Pimp Maya K-Rig La nostra missione? Rispondere a una richiesta d'aiuto Bistard ha lanciato un appello Il suo PC ha problemi, grossi problemi E che cosa deve farci con questo PC? Giocare, streaming, editing, sim racing Insomma, un PC qualsiasi non basta Deve essere qualcosa di veloce Dobbiamo pimparlo Beh, direi che la nostra risposta è qui davanti E io non vedo l'ora di metterci le mani Abbiamo scelto il top processore Intel Core i9 10900K 10 Core, 20 Thread fino a 5.3 GHz di frequenza Scheda madre MSI Z490 Godlike Ma RTX 2080? Vabbè, aspetta L'RTX 3090 tranquilli, arriva L'obiettivo è quello In questi giorni vi presenteremo tutti questi componenti nel dettaglio E poi sabato 19 settembre Assembleremo in diretta il PC E uno di voi potrà partecipare Rispondete al questionario che trovate giù nei commenti o in descrizione E potreste essere voi i prescelti Tutto chiaro? Che la sfida abbia inizio